Approvato in Consiglio Comunale quali sono dei regolamenti, che succede, quali sono le modifiche e se sono stati apportati? Oggi è stato approvato all'unanimità dei presenti e quindi tracciamo un'altra bella pagina per il nostro Comune, per il nostro Consiglio Comunale, un regolamento utile, un regolamento che si aspettava da anni, che è quello per il riprissimo delle manomissioni dal suolo pubblico nel caso in cui sia ditte che privati, quindi liberi cittadini, devono realizzare degli allacci, ad esempio dei servizi già esistenti o la realizzazione da parte delle ditte di nuovi servizi. È un regolamento che attua un po' la normativa nazionale e anche europea ma che pone ovviamente delle riflessioni anche di carattere politico perché, benché gli uffici abbiano redatto un regolamento tecnicamente valido sotto tutti i punti di vista, le scelte politiche che sono state fatte sono state quelle di tutelare l'ambiente e ora spiegherò in brevissimo il perché. È quello di garantire soprattutto ai privati cittadini perché non si può avere una parità di trattamento tra chi interviene per tagli longitudinali di centinaia di metri per il posizionamento dei sottoservizi per la banda larga, ad esempio del gas o del servizio idrico o della fognatura rispetto ai cittadini che devono fare degli allacci che di solito sono trasversali rispetto ai servizi longitudinali che seguono tutto l'asseviario di semplici allacci. Allora noi perché abbiamo puntato l'attenzione e abbiamo emendato maggioranza ed opposizione in piccole parti un regolamento che era stato già deliberato dall'Aggiunta e che sostanzialmente era valido uno la nota di carattere ambientale perché un regolamento di si è fatta portata così come è previsto dalle linee guida dell'ISPRA e quindi ai rapporti sul consumo del suolo è giusto che nel momento in cui non soltanto nel sottofondo stradale, in ambiente urbano ma anche nelle strade a fondo naturale o nelle aree a verde si dovesse procedere con degli scavi per la riduzione dei sottoservizi deve essere garantita la matrice suolo, matrice che come componente riguarda il primo metro di terreno che va dalla lettiera quindi al Monterbotus fino alla roccia alterata quindi fino allo strato di alterazione della roccia madre quindi lo strato alterato che ha una componente biotica abbastanza importante chimica e fisica non soltanto per i cambiamenti climatici ma anche per la sopravvivenza degli organismi che poi danno origine al nutrimento delle piante. Appunto per questo molto spesso quando si scava soprattutto con mezzi pesanti lo sversamento di oli, le rotture delle condutture o le fonti di inquinamento alterano assolutamente queste proprietà non soltanto nelle fasi di lavorazione ma soprattutto quando viene effettuato il riempimento perché se è vero come è vero che il riempimento deve essere effettuato secondo le linee guida garantendo il ripristino appunto delle condizioni ambientali quindi chimiche e fisiche del suolo noi abbiamo voluto come commissione grazie anche all'opposizione quindi all'unanimità di intenti inserire tra gli elaborati progettuali non soltanto la relazione descrittiva delle opere che devono essere realizzate ma anche la relazione ambientale da integrare a quella descrittiva quindi questo è il lavoro per i tecnici ma è soprattutto un lavoro che apporta poi dei benefici perché se domani ci ritroviamo degli scavi con fonti inquinanti sappiamo chi ha determinato quelle fonti inquinanti. questo è stato un emendamento che è stato tracciato un altro emendamento che noi abbiamo preso con disponibilità del sindaco ma abbiamo preso appunto dall'emendamento fatto dall'opposizione e che è stato votato all'unanimità anche dalla maggioranza è quello che nei tagli longitudinali pochi per la verità mentre il regolamento prevede che il ripristino della carreggiata fosse per intero e questo se noi abbiamo una carreggiata di 8 metri o di 12 metri quindi se il taglio longitudinale è 10 metri deve essere fatto non soltanto il ripristino ovviamente del taglio ma anche dell'intera carreggiata qualunque esso sia questo per essere valido per le grandi ditte che devono fare degli investimenti viene ridotta assolutamente in un'ottica di garantire il cittadino nel caso del cittadino privato che potrà ufficialmente ripristinare soltanto una fascia di rispetto di un metro e un metro rispetto al taglio che viene fatto longitudinalmente quindi abbiamo approvato questo regolamento e devo dare un plauso ai componenti della commissione perché oltre a questo regolamento che era di provenienza della giunta ricordiamo anche il regolamento sul bilancio partecipato non entriamo nel merito delle critiche che ci sono state ma quello che conta è che questo consiglio comunale ha votato all'unanimità questo atto e già ci stiamo accingendo a predisporre perché già è stato votato il regolamento sulla gestione degli impianti sportivi delle palestre sia ad opera di associazioni no profit sia ad opera di associazioni a scopo di lucro per rendere anche la possibilità al privato di poter investire sugli impianti sportivi che sono fatiscenti e dare la possibilità ai vai giovanili di poter esercitare lo sport come è giusto a partire grazie a tutti